È una lunga storia quella del circolo ACLI di Capolona, ma che per un momento si era interrotta. Ora, con un nuovo consiglio e il supporto degli ACLI provinciali, riapre e diventa luogo di patronato e luogo di cultura. In questo circolo ho notato davvero l'entusiasmo di giovani e di chi ha esperienza, chi ha condotto il circolo fino a loro, volerli supportare, volerli stare vicino e poter dargli una mano per rilanciare questi luoghi. La cultura è veramente un veicolo importantissimo nella nostra epoca, più che il semplice baro. È proprio un'esigenza di rinnovamento, proprio per poter recuperare lo stare insieme attraverso forme nuove, forme che attraggono sia giovani che meno giovani, quindi attraverso il teatro, i momenti di cineforo, ma anche i servizi. Il circolo stesso ha voluto fortemente che le ACLI provinciali si impegnassero alla presenza di servizi patronato e CAF. Il circolo ACLI, al Cinema Nuovo di Capolona, presenta una lunga rassegna teatrale con una serie di commedie. Ci saranno otto appuntamenti da adesso, dal 4 ottobre fino a maggio, quindi per tutto l'inverno e primavera. Ci saranno compagnie che verranno anche da tutta Italia, perché il primo appuntamento viene una compagnia amatoriale, ma quasi professionale, abruzzese, di Lanciano. Poi ci saranno compagnie di Arezzo, compagnie di Firenze, da Vinci. Ecco, noi vogliamo offrire un teatro popolare, delle commedie divertenti ovviamente. Rassegniamoci. La rassegna di commedie teatrali proposta dal circolo ACLI di Capolona, in collaborazione con Nata Teatro, inizia questo venerdì 4 ottobre alle ore 21, con una commedia in giallo di Oneira.